Gian Piero Gasperini è stato accolto dai cori dei tifosi nerazzurri, non poteva essere diversamente questa Atalanta vuole restare in Europa, questa Atalanta ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Sono indubbiamente felice e soddisfatto per la squadra, per i tifosi, sono venuti fino ad Atene in grande numero, è una manifestazione che ci teniamo, però non era così facile come poi ha detto il risultato, è stata brava la squadra indubbiamente questa sera, ha fatto la gara, è un risultato anche che l'ha premiata. Gasperini che deve fare di necessità virtù, se non ha gli attaccanti mescola un po' le carte in tavolo e poi il risultato arriva. Devo dire che siamo riusciti a giocare meglio tecnicamente, abbiamo sviluppato meglio le nostre trame pur avendo in attacco tutti i centrocampisti, però alla fine riuscivamo a trovare delle buone linee di passaggio, delle buone geometrie e poi nell'arco della gara la partita chiaramente si è sbloccata con i gol ed è stato più agevole. Una grande prestazione di tutta la squadra, una grande prestazione di Ruslan Malinoski. Sì, indubbiamente sì, eravamo tutti molto preoccupati, oggi abbiamo passato molto tempo davanti alla televisione a capire le notizie che arrivavano e lui è chiaramente molto coinvolto avendo anche molti familiari in zona, però si sentiva di giocare, ha giocato una grande partita, ha fatto due gol. Speriamo che sia un sorriso in questi giorni così difficili.